Semastriale nazionale quanti vengono a lavorare, semastriale nazionale quanti vengono a lavorare, semastriale nazionale quanti vengono a lavorare, scusate, un minuto di gesti. Non mangi un cazzo, non mangi un cazzo, più o meno. Sebastiano olè, Sebastiano olè, Sebastiano olè, Sebastiano olè. È una piccola immagine della pezza. Bene, grazie, grazie. Dopo farò il discorso, no, se ci picchia tutti.